Picciolo, Picciolotta, bella lei Ehi, Poca Pochi Ma sono velocissime Sono veloci e veloci, vi vedi? Questa è una forma aerodinamica Guarda che sbattono qua la cosa Guarda che sbattono lì, vedi? Sbattono la testa lì per direttirsi Che belle Sono poche Mamma, le poche Vedi, le poche, mamma E tu dicevi che neanche ci erano Vabbè, ma non ci sono veloci Sono covesse i loro Ha detto papà Le faccio 200 Voglio fare almeno una bene Ma perché se ne vanno in grotta? Sì, là, qua, che c'è un altro posto No, papà Ecco, guarda, il leone marino Guarda lì Mamma mia Ma senza acqua è È senza acqua No, se vogliono l'acqua non c'è più male Non deve essere completamente Senti l'odore Però questi sono le oli marini con la bellissima Mi sono uguali le luci-luci Però non ho di fiorini Ehm, non dove stanno Questa è una popoligia Però, a me piacciono Guarda che lunghe che hanno A proposito Fanno lunghe Con queste pille Perché? C'è lunghe alla fine, hai visto? Guarda qui Due Che piedi? Dormono Vedete dove dormono? Così? Ma si sforzano a dormire Ma una è rossa un po' Mamma mia che puzza Ma quella è tutta cacca? Eh, non lo so Sì, perché i vestiti lo fanno così la cacca Ma dormono sulla cacca? La cacca verde Perché mangiano cose verdi loro, no? E' alto Beh, veramente che fuccia Però che bello Siamo arrivati a rettilaglio? No Cosa? No, vabbè Sono i sudicati Quelli che mangiano i vermi Sono marmotte Marmotte Ma sono bellissime Ma si vanno a carizzare? Sono l'oltre Ma vi stai insieme Perché? Ora più carine di gioia Davvero? Più carine di gioia Per te sono No 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 Carine però Adesso lo t'hanno guardato Oh mamma Tranne i serpenti Ma andiamo avanti 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 E' la lontra La lontra asiatica Ma non si vede Ma andiamo avanti E si può vedere Io vedo dei pantaloni Ma andiamo avanti Perché non si fa vedere? Perché mamma non si fa vedere? Da qui esci, esci fuori, oh, voglio fotografarla là, tigre, che è questo, che è quello, ma è il sangue di tigre? E' una cosa incredibile da dire, è una cosa incredibile, l'ho guardata finora negli occhi, è un'ontefila di pezza. Perché? Invece quello là si, non ci vedono, no, no, non ci vedono, hanno una pellicola, non vedono noi, hanno una pellicola per cui non ci vedono, si vede che non ci vedono, capito? Non ci vedono, non ci vedono, sentono soltanto. Guarda, guarda che occhi che c'ha, guarda, guarda che occhi, guarda. No, ma ci vede, guarda? No, non ci vede, c'è una pellicola per cui non ci vede, guarda che pelliccia. Perché? Guarda che bel pelo, Sofì, a te che ti piace accarezzare. Oh no! Ecco, carezzala. Solo che sta boccuccia, non è quella di gioietta. No, no, e gli artigli suoi non sono quelli di gioietta. Eh no. C'è un artiglio che questo sono 300 kg, diciamo, di forza, con ogni artiglio ce n'ha 6. Voglio accarezzarla. No, 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 non è un elemento da accarezzare, lei. È bella però che il gattone, è un gattone. È una tigre. È un grosso, grosso. E guarda, ammazza, così vicino non ci sono mai venute, non l'abbiamo mai vista così vicino, perché c'è meno gente, chissà. C'è meno gente. Ti ricordi? È così, stava sempre lontano, poi la tigre non si vedeva mai. No, no, questa è proprio vicino. La tigre non la vedevamo mai, guarda, si è seduta davanti a noi. Guarda che bella, ti ci faccio una foto, Sofì. Guarda, facciamoci una foto qui, insieme. Dai, 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 Ricky, Sofì, giratevi. È meraviglio, sai, questo è meraviglio. Ricky, girati. Toglietevi quelle mascherine. Più larghi, se no non l'avete. Togli le mascherine, Ricky. Aspetta, prima. Guardate, mi chissà. Io non ho capito quando scatta questa, però. Ha scattato? È scattata? Sì. Non la capisco se scatta, Enrico. Anche io, adesso abbiamo fatto tutto il percorso. Aspetta un attimo. Gira, gira, gira. Come sembra la macchina? Dai, vieni, vieni, Sofì. Vieni, vieni che viene. Dai, vieni, vieni, Simona. Dai, dai, tutti insieme. Con la tigre. Dico, non si vede la tigre, però, eh. Allora, ci mettiamo, ci mettiamo così. Venite, venite, tutti insieme, qua. Allora. La copri tu, Enrico. La copri, allora. Vai, 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 vai. Così si vede, dai. Siete pronti? Con la tigre. Tigre di Monta, c'è un po' di tigre, per favore. Un'altra. Un'altra. Insieme con la tigre. Qua, qua, qua. No, non la tigre, ma. Vieni, ci faccia la foto prima che se ne va via la tigre. Vai, Ricci, girati. Girati, Ricci. Ce ne faccia più di una, così. Non mettere la giacca. C'intigra. Tigrati. Ok. Grazie. Grazie, cara, grazie. Tieni, Sofie, aspetta un attimo. Possiamo fare atti con quella, eh. La serie, la giusti, perché la riesco a capire. Mi prendo la lista di video, no? Sulla... Che vista? Oddio, stai facendo una...